La tua Etruria è di nuovo al salotto delle 6 per questi appuntamenti extra ordinem, dopo aver parlato dei guai, dell'Italia della mafia, dell'Italia brutta, finalmente si prova a dare un ritratto dell'Italia che sorride e la possibilità c'è ancora, possiamo ancora ridere. Mimmo Liguoro è di nuovo qua, ha entusiasmato gli ospiti nella puntata precedente, non lo volevano mandare via e ha deciso che valesse assolutamente la pena tornare per riprendere un filo. Dove eravamo rimasti nel primo appuntamento? Nel primo appuntamento abbiamo trattato della storia della canzone italiana in particolare, partendo da un criterio, cioè la storia raccontata dalle canzoni, dalla musica popolare. E ci siamo fermati a un certo punto, adesso stasera cercheremo di andare avanti, ci eravamo fermati prima dei cantautori, prima della nouvelle vague della canzone italiana, adesso stasera faremo quest'altro tratto di percorso. La gente ovviamente si entusiasma, non credo che si entusiasmino per me, si entusiasmano perché il tema che noi proponiamo è importante, in quanto suscita ricordi, sensazioni, convinzioni che ciascuno ha dentro e che torna ad esprimere di fronte a una canzone, al ricordo di una canzone. Oggi Mimmo Liguoro che canzone sceglierebbe per l'Italia di questi giorni? E' molto difficile dirlo perché è un momento critico, è un momento pieno di incognite, forse una canzone napoletana il cui titolo è Sarà, chissà. E questa vale anche per i mesi a seguire, probabilmente anche molto per i mesi a seguire, varrà forse più per marzo che per oggi. E' probabile, è una canzone di lungo respiro che però comunque come tutte le canzoni ha una fine, oltre che un principio. Ovviamente, e anche questo una fine potrà averla ma sarà sicuramente anche un messaggio, gli incontri che sono stati fatti, i due incontri, andranno a finire molto probabilmente in un libro. Quindi ci sarà una sorta di sunto, una conclusione, una chiusa di questi due incontri con Mimmo Liguoro? Sì, c'è un'ipotesi, un'idea di questo genere, ancora non ci sono i contorni precisi ma c'è la volontà e un desiderio di realizzare questa pubblicazione. Spero che si faccia e potrebbe essere un'altra occasione per dire che la storia siamo noi, cioè le canzoni rispecchiano la presenza di ciascun uomo e di ciascuna donna nella storia del paese e quindi dell'umanità. E così la copiata partenopea Pasquale Bottone e Mimmo Liguoro sarà unita in questo progetto che potrà comunque regalare un'occasione per pensare anche in modo sereno. Sì, me lo auguro, me lo auguro vivamente. Un po' di Napoli e un po' di Viterbo possono fare cose veramente eccellenti. Un bel matrimonio. E a proposito di Viterbo, oggi sarà di nuovo visibile la nuova sala conferenze che è stata diciamo arredata perché probabilmente lo merita con il pensiero a Vincenzo Cardarelli. Mimmo sarà ospite e potrà vedere questi pannelli che sono stati voluti da Paolo Felliccia e che addobbano in modo molto bello e sicuramente culturale perché comunque Vincenzo Cardarelli è una figura importantissima per questa provincia. E quindi saremo insieme a lui in questo momento di poesia. Benissimo, benissimo.